Riprendiamo il TG, Campionati Europei di Calcio. Sentiamo come sta andando dal nostro inviato Nane Bortoin. Nane, mi sente? Scusi, mi sente? Ma che si è messo in testa? Mi sono messo una cuffia. Ma quale cuffia si è messo? Quella che mi ha detto è mettere il tecnico della televisione, un po' qua, po'. Ma quella è una cuffia da piscina. È per forza che non mi sente. Ma mi faccio fatica a sentirti anche perché qua è il Siga. Fratelli d'Italia, forza Italia. Ma non ce l'ha già finita le elezioni europee, scusate. Ma no, ma che dice? Ma quelli sono i tifosi della nostra squadra. Piuttosto, ci racconti qualcosa delle partite che stai guardando? Beh, guarda, devo dirti che mi di calcio non me ne intendo molto. Mi sono messo vicino al tegronista che per me anche quello capisce poco. Perché continuava a dire. Le maglie della difesa avversaria si stringono. Dopo, le maglie della difesa avversaria si allargano. Ciao, Fioi. Ma che lavanderia usa i questi? A me, ieri, non c'è mai successo niente di simile. Boh, ma no, si riferisce al calcio, al gioco. Comunque, dopo che ha scommissionato i falli e vedeva falli dappertutto, fallo duro dell'avversario. Ma probabilmente che aveva io c'hai a raggi X perché tutti questi falli non li ho mai visti. A parte una volta che uno che attirava i mudandoni ad un altro è una simulazione di fallo. Comunque, Fioi, faceva tanto caldo che a un certo punto gli ha detto, l'arbitro è stato chiamato al bar. Ma quale bar? Vorrà dire al bar? Ma cosa sta dicendo? E mi, cosa avevo detto? Comunque, quando si è tornato al bar, gli ha messo 4 o 5 giocatori tutti in fia. E dopo, è che ha spruzzato una bomboletta le scarpe di questi giocatori. Ma... E beh, sarà stata una punizione. Una punizione. Ma ti, se ti ha da punire uno, gli sporchi le tue scarpe. Comunque, dopo, mi pensavo che questo qua, il dovesse tirare il bar e buttare lì su tutti come sul bullying. E invece il giocatore, il gattirà, abbia e andrà in porta direttamente. Se è successo il finimondo. Questo qua è scampava dappertutto tutti i che corre ad rio, adesso gli da botte. E invece, quando chi va a ciappà, gli si basava, gli si sbrassava. Boh, ma... Beh, guarda, lasciamo perdere. Ci dica più addosso, com'è finita la partita che ha visto? E ora, a un certo punto, il telecronista ha detto, il centravanti ha colpito un palo. Va a ponfiare, il centravanti ha colpito un altro palo. A quel punto là, mi sono andato al bar, beh, a me qualcosa. Quando che sono tornato, non che c'era più nessuno. Probabilmente, ho pensato, e ne ha buttato un palo. Si è casca attraversa, perché ne ha buttato un altro. E l'arbitro gli ha mandato tutti a casa. Comunque, non sta a preoccuparti. Stasera i so ancora, e domande, conto come che è andata. Ma per favore, basta così, per me è sufficiente, Bortoini, lasci perdere. Basta così ora.